Ciao a tutti! Come avrete forse intuito dal titolo vorrei riproporre l'iniziativa lanciata lo scorso anno a cui vi chiedo di partecipare se volete. In pratica l'obiettivo è realizzare un video di fine anno dove mostro ciò che avete realizzato partendo dai consigli che donne video. L'anno scorso mi avete davvero sorpresa tanto e vi lascio il link al video qui sotto per cui spero che anche quest'anno partecipare tentanti. Per farlo basterà inviarmi via mail le foto della realizzazione e anche del prima se volete seguendo le modalità che vi scrivo qui sotto. Potrebbe essere la tinteggiatura delle pareti in uno dei colori che abbiamo analizzato, una disposizione particolare, un lavoro fai da te oppure l'arredamento in uno stile di cui abbiamo parlato. Insomma qualsiasi cosa per cui abbiate avete preso spunto da un mio video. Sono davvero curiosissima di vedere i vostri risultati. Siate curiosi anche voi? Fatemelo sapere nei commenti. A presto, ciao!